E' la prima volta per Monsignor Francesco Montenegro, nelle vesti di pastore della Chiesa Grigentina, a presiedere la Messa Crismale nella Cattedrale di Agrigento, alla presenza dei sacerdoti e dei fedeli. Punto centrale dell'Omelia dell'Arcivescovo è stato il Ministero del Sacerdozio, il rinnovo delle promesse sacerdotarie, un ministero carico di umanità, di servizio di uomini per gli uomini e il significato del Crisma. Nella sua Omelia Monsignor Montenegro ha spiegato che fede è conoscere e riconoscere Cristo nell'Eucaristia, ma anche e soprattutto negli ultimi, nei fratelli più poveri. Facendo riferimento all'anno pastorale incentrato sull'ascolto, per i sacerdoti nell'ascolto c'è l'accoglienza dell'altro. Non dimentichiamoci che buona pastorale non è solo quella che porta la gente in Chiesa, ma che la incontra lungo la strada e soprattutto fa andare oltre dal rito alla vita. Il mio desiderio e il mio invito è che si faccia sempre più intenso il via vai tra Chiesa e strada e viceversa. Infine Monsignor Montenegro ha ricordato i confratelli tornati alla casa del padre, chi festeggia l'anniversario di sacerdozio e ha spiegato a tutti i presbiteri della diocesi di guardare a Maria per trovare maggiore spinta nella missione di evangelizzazione. Infine la benedizione del Crisma, l'olio che misto profumo viene utilizzato nei sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordine. Concedi energia e vigore ai catecumeni che ne riceveranno l'unzione, perché illuminati dalla tua sapienza comprendano più profondamente e quindi